594 casi su 4.560 tamponi processati, tasso di positività al 13,02%. Questo è il dato emerso dal bollettino epidemiologico dell'8 marzo. Nel report del 7 marzo i casi erano stati 1.155 su 8.497 tamponi con tasso di positività al 13,59%. Il totale dei contagi da coronavirus registrati in Puglia sale a 116.722, di cui 35.207 attualmente positivi, 116.722 guariti e 4.122 deceduti. 25, di cui 13 provenienti dal Foggiano, 7 dal Tarantino, 3 dal Barese e 2 dall'Eccese, sono i nuovi decessi, 828 sono i nuovi guariti. Cresce in maniera cospicua il totale dei ricoverati che passa da 1.458 a 1.516, in discesa da 34.008 a 33.691 i quarantenati. Su scala provinciale, il dato più alto dell'8 marzo è rappresentato dai 301 casi emersi nel Barese. Il totale dei pazienti registrati nell'area del capoluogo di regione da inizio pandemia è ora di 60.370, dato a tre cifre anche nell'Eccese, zona nella quale i nuovi casi sono 117 ed il totale 13.410. 87 sono i nuovi positivi nel Foggiano, zona nella quale il dato complessivo è ora di 30.702. 11.435 il totale del Brindisino, area nella quale i casi registrati l'8 marzo sono 42. Numeri più bassi nel Tarantino e nella Bat. I nuovi casi nella zona ionica sono 29 con un totale di 23.077. Quelli della provincia di Barletta-Andreatrani sono 14 con un dato complessivo di 16.247. A chiudere il quadro sei casi della provenienza non note e due residenti fuori regione. 1.626.872 il totale dei tamponi processati in Puglia da inizio pandemia.